Attenti a dove mettete i piedi. Erano sopra alla lettera? Sì, sono i suoi anelli. Ho trovato un cellulare. Arrivo. Da quanto vivono qui? Da quando la casa è stata costruita negli anni Ottanta. Una cosa strana. Che cosa? Un miliardario che sceglie di vivere così. Un po' più spazziscono? Un po' più buonasera. Un po' più spazziscono? Un po' più spazziscono?